un cordiale saluto a tutti voi ben ritrovati cari telespettatori di fano tv siete sintonizzati sul canale 17 come tutte le mattine per la rassegna stampa occhio ai giornali che tra poco sfoglierà il messaggero il corriere agriatico ed il resto del carlino con le edizioni locali cominciamo da dal santo del giorno oggi è san liborio il sole sorto alle 6 e 35 e tramonterà le 19 e 44 minuti il tempo previsto per la giornata di oggi intanto la fotografia delle 7 e 30 che ci mostra la webcam del nostro osservatorio con un cielo terzo libero da nuvole una temperatura rigida ancora alle 7 e mezzo del mattino siamo a 3 gradi e 7 un po di più rispetto alla giornata di ieri ma comunque sempre rigida poi la temperatura ovviamente nel corso della giornata salirà questa è invece l'immagine con la grafica animata del sito della protezione civile delle marche la regione come vedete sulla costa è libera da nuvole nuvole avremo venti di brezza tesa settentrionali il mare sarà poco mosso le temperature in lieve aumento per domani venerdì 10 aprile giornata ancora serena con temperature in lieve diminuzione le minime sono stazionari invece un lieve aumento quelle massime i venti saranno di brezza tesa a regime di brezza il mare sarà poco mosso per la giornata di sabato vedete aumenta la nuvolosità anche se sarà una nuvolosità medio alta senza ovviamente precipitazioni temperature in aumento eventi di brezza leggera il mare sarà poco mosso per quanto riguarda la tendenza per i prossimi giorni abbiamo indicazioni di tempo stabile per il resto della settimana comprobabile lieve peggioramento nella giornata di domenica in particolare nelle zone interne della regione ma senza fenomeni di rilievo allora leggiamo i giornali cominciamo dal messaggero la pagina di Fano che in apertura mette la cronaca del funerale di Silvia Gadani l'architetto di 41 anni che è stato trovato morto la settimana anzi il primo di aprile a Roma nel quartiere Prati di Roma ecco la foto con in un momento il momento delle esequie ieri a San Pio X folla per l'addio a Silvia l'amica degli animali centinaia di persone per il saluto alla ragazza deceduta a Roma poche ma sentite parole in chiesa poi le note di Renato Zero all'uscita del feretro centinaia di volontari hanno accompagnato l'ultimo viaggio della donna che aveva consacrato la vita alla natura più sempre sulla pagina del messaggero di Fano sedie e tavolini verso la schiarita il via libera Marchegiani il vice sindaco incontra la soprintendenza no a diktat improvvisati poi sotto passaggi passaggi è il festival letterario che è salito agli onori della cronaca tra i beneficiari dei contributi elargiti dalla CPL Concordia finita nel mirino di un'inchiesta per corruzione portata avanti dalla procura di Napoli gli organizzatori fanesi del festival si chiamano fuori dalla polemica sottolineano come quei fondi siano stati elargiti legalmente e che comunque non saranno usati poi si parla del 25 aprile che riparte da Srebrenica il convegno primo appuntamento delle iniziative per ricordare la liberazione appunto del 25 andiamo sulle altre pagine del messaggero la Fanurbino si può riaprire Verdi e Associazione Valmetauro presentano il progetto per riattivare la linea servono 80 milioni di euro ma ne vale 700 secondo questo progetto l'elaborato viene dopo la mozione per la cessione gratuita della tratta due atti legati e fondamentali armi, chi ha un'arma in casa scatta quasi un censimento c'è una scadenza, quella del 5 maggio per chi è in possesso di pistole, fucili da caccia o altro infatti entro il 5 maggio queste persone devono presentare un certificato medico di idoneità si calcolano circa 15 mila porti d'arma da verificare la questura di Pesaro annuncia che per gli inadempienti scatteranno diffide o denunce sempre dal messaggero gli albergatori da Pesaro si dicono salvati dallo sport dalle manifestazioni sportive e chiedono però sconti sugli impianti il presidente Oliva dice con il sole ma senza tornei sportivi le strutture sarebbero state vuote c'è più concorrenza le località termali rilanciano l'offerta grazie ad aiuti degli enti locali giù i prezzi di palestre e palazzetti Boschi per Ceriscioli, siamo alla politica regionale alleanza con Spacca Forza Italia chiama Berlusconi il ministro democrat atteso nelle Marche il 9 o 10 maggio Lega o Marche 2020 si attende la decisione di Silvio il sottosegretario Gozzi avvia la campagna elettorale del PD Renzi sposta la data dell'incontro dalla prima pagina invece del messaggero di Pesaro 30 aziende per l'Expo alla data chiuso il programma per la vetrina dei territori Drudi della Camera di Commercio dice porteremo ad Urbino tanti imprenditori poi sotto potrete leggere anche le previsioni del meteorologo che dice finalmente è arrivata la primavera apriamo adesso invece il Corriere Adriatico la pagina di Pesaro si è spento Alfredo Mili Camera ardente in provincia Camera ardente che sarà allestita nella sede della provincia oggi a partire da oggi la Camera ardente per Alfideo Alfideo Mili prima forse ho sbagliato il nome ho detto Alfredo ma Alfideo Mili l'88enne Urbinate scomparso ieri ex consigliere provinciale e dirigente del partito comunista pesarese sin dagli anni della liberazione poi sotto la cronaca centropagina voglio i soldi in uno in casa un'ora di terrore è stato arrestato un 52enne pesarese che ha sequestrato e picchiato l'anziana madre e il compagno per avere i soldi 500 euro ma pensate siccome questo signore amava i viaggi la bella vita pretendeva dalla madre e dal patrigno 5000 euro subito e poi 1000 euro comodamente da dare al mese per 7 anni insomma si era studiato tutto questo vitalizio frana il colle a San Pietro in Tambis ho struita mezza carreggiata siamo a Fossombrone mezza carreggiata della strada che conduce alle cesane poi da Fano invece braccio di ferro sui due beni della discordia contenzioso tra Fano e Mondolfo per la proprietà dell'ex scuola di via chiesa e del centro civico il sindaco di Mondolfo Cavallo vorrebbe ricorrere ad un arbitrato della regione ma la soluzione non convince l'assessore fanese Mascarina sull'intera vicenda resta la spada di Damocle del ricorso al TAR contro l'unificazione di Marotta poi sopra si parla di un'iniziativa che ormai è in piedi da diversi anni corto e mangiato leno gastronomia amica della legalità ancora andiamo sulle altre pagine del Corriere offrono un tetto a due clochard ma loro rifiutano sono quei due clochard di cui ci siamo occupati anche in altri momenti anche nel corso dei telegiornali stavano nei giardini del Pincio adesso si sono spostati tra l'arco d'Augusto e San Michele il dormitorio di San Paterniano li accoglierebbe anche ma non può accogliere il loro cane e così hanno deciso che dormiranno fuori continueranno a dormire fuori perché loro senza il loro cane non stanno e quindi preferiscono dormire all'addiaccio piuttosto che andare nella struttura di San Paterniano che li ospiterebbe nessuno muore se vive nel cuore di chi resta le dolci parole della zia di Silvia nel giorno del funerale in chiesa rose bianche e le note di Renato Zero una valanga di messaggi di affetto e di grande stima il maggior avanzo degli ultimi 20 anni invece è il bilancio il consultivo firmato dal sindaco di Pergola Baldelli il comune di Pergola ha in cassa un risparmio per 570 mila euro un comune virtuoso nonostante l'eredità di Borri i tagli del governo di Matteo Renzi sono stati devastanti ma noi abbiamo migliorato i nostri conti ha detto il sindaco di Pergola Baldelli in auto invece a Senigallia in auto con la famiglia e la droga da spacciare un operario di Trecastelli arrestato mentre rientrava con la moglie e i figli minorenni dalle vacanze pasquali adesso andiamo sul resto del Carlino i problemi della sanità i dializzati sono stati trasferiti a Fano scatta subito la protesta un disagio eccessivo tre volte alla settimana non basta il servizio di navetta l'integrazione non si fa sui malati cronici nuovi tagli del personale i sindacati sono allarmati e hanno chiesto un incontro al direttore Aldorici Aldorici che comunque si dice sicuro dice nonostante i tagli saremo in grado di assumere 53 infermieri a fronte di 37 unità di personale che vanno in pensione recluteremo anche quattro tecnici di radiologia ha detto ancora Aldorici sette operatori sociosanitari quattro bioingegneri due programmatori e due amministrativi la pagina di Fano entrate ed uscite dei sette candidati rendi conto delle elezioni 2014 dopo il caso Concordia l'elenco delle spese e degli introiti dichiarati chiesa gremita per Silvia cuori gonfi di perché per l'addio all'architetto a San Pio X presente i tanti amici del suo EMPA l'ente nazionale di protezione animali le parole della zia ci hai lasciato pieni di rabbia e di sgomento difficile trovare le parole decine di felpe azzurre all'uscita con le note di Renato Zero da Urbino si parla ancora della tratta di smessa tratta ferroviaria dismessa ormai tanti anni fa Fano Urbino tutti a spingere il treno della bellezza presentato da Ancone il progetto preliminare per il ripristino della ferrovia poi ancora da Pesaro il sequestratore del patrigno voleva anche un comodo vitalizio è storto alla vittima l'obbligo di pagargli mille euro al mese per sette anni infine associazioni nella crisi associazioni di categoria nella Camera di Commercio non è più tempo per resistenti Gianfranco Tonti di Confindustria c'è questa intervista che gli ha fatto il resto del Carlino Tonti dice il cambiamento è inevitabile poi si dice cautamente ottimista sull'andamento dell'economia soprattutto a livello locale registro dice Tonti la ripresa della fiducia delle aziende ma la flessibilità è decisiva e con questa notizia diciamo che speriamo possa darci un po' di ottimismo in questa nuova giornata che stiamo per affrontare vi auguro un buon proseguimento vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale e subito dopo la diretta con Primo Cittadino ovvero il Sindaco di Fano che risponde alle vostre richieste alle vostre domande domande che potete già iniziare a fare attraverso i nostri canali come sempre telefonici per quanto riguarda Whatsapp e gli SMS al 338 496 8250 oppure attraverso internet e la posta elettronica redazione chiocciolocchianotizia.it grazie per averci seguito buona giornata e per quanto ci riguarda domande